C'era Picasso che era una grande mostra, forse una delle ultime grandi mostre in cui si è mostrato in pubblico e aveva questo, esponeva questo disegno meraviglioso, molto famoso, in cui aveva fatto una specie di pinguino, un uccello che era un unico tratto di penna così, con un punto, e c'erano due signori abbienti così, con un tono un po' pizzuto che gli si avvicinano, gli dicono maestro, ma lei chiede molti soldi per questa sua opera d'arte, ma in fondo ma quanto ci ha messo per farlo questo suo uccello, che era ovvio che l'aveva fatto in tre secondi e lui le guardò e gli disse, signore io ci ho messo tutta la vita.